Il progetto SETI nasce con l'intento di trovare segnali alieni nel mondo. Nel 1977 venne registrato un segnale proveniente dallo spazio. Vennero registrati anche strani segnali che sembravano per certi versi simili al codice Morse o altre forme di comunicazioni. Nel 1992, al 500esimo anno della scoperta dell'America, la NASA lasciò un proprio programma di ricerca SETI. Il programma era voluto a cercare presunte tracce alieni, rimasto però senza finanziamenti, venne abbandonato due anni dopo.